E-Hub e il consorzio unico Campania hanno annunciato l'estensione del progetto EMB con sistema TAP&G sulle linee flegree. TAP&G è il sistema che consente di viaggiare sui trasporti pubblici locali, utilizzando la propria carta di pagamento contactless, senza più la necessità di avere con sé il biglietto cartaceo. In questo modo le stazioni abilitate passano da 68 a 96. Ascoltiamo il presidente dell'EAV, Umberto De Gregorio. Dopo la metropolitana, dopo la circonvesuviana, anche la cumana e la circonflerea entrano in questo circuito, che è il circuito del futuro, perché noi dobbiamo dimenticarci piano piano il biglietto cartaceo. Il sistema calcola in automatico la tariffa migliore in linea con le esigenze del viaggiatore, che potrà usufruire del servizio con qualsiasi tipo di carta, anche con carte digitalizzate su dispositivi abilitati al pagamento NFC, con smartphone o smartwatch, senza commissioni aggiuntive. La carta deve essere usata sia in entrata che all'uscita delle stazioni per consentire il calcolo esatto della tariffa. In assenza di varchi, i validatori saranno posizionati a muro. Iscrivendosi all'apposito portale, sarà anche possibile verificare gli addebiti e i TAP effettuati. Ascoltiamo Gaetano Ratto, presidente Consorzio Unico Campania. Noi stiamo registrando un vero e proprio successo di questo servizio, con un utilizzo da parte degli utenti di circa 2.500 unità al giorno, con punte di 4.000.